Cari amici, mentre mi trovo fermo a un semaforo rosso nel quartiere di Monteverde a Roma, approfitto per ringraziarvi per tutti i bei messaggi che mi sono giunti per la puntata di ieri sera di Nota la Nota. È sempre un grande piacere ricevere i vostri complimenti. Noi ci sentiamo questa notte e la prossima notte in diretta su Rai Isoradio. L'appuntamento quindi è a luna di questa notte. Ecco, nel frattempo è ritornato verde, io riparto. Ciao, a stanotte!